A Guida Viaggi Web TV Camillo Bozzolo poco prima del convegno di No Frills sullo sviluppo del trasporto aereo in Italia ed è anche di ritorno da Chicago dove ci è appena svolto il World Roots Forum. Che novità ci sono dagli Stati Uniti? Beh, Roots è una conferenza che si tiene ogni anno, questa era la ventesima edizione dove tutti gli aeroporti incontrano tutte le compagnie aeree a livello mondiale. Quello che è bello di vedere è che finalmente si comincia a vedere una ripresa da quello che è il mercato nordamericano e la speranza di tutti noi è che questo traini poi il mercato europeo. A questo forum si annunciano acquisizioni di aerei o le compagnie aeree presentano i loro progetti? Beh, da una parte le compagnie aeree presentano i loro progetti, dall'altra sono gli aeroporti che presentano i loro business case alle diverse compagnie aeree. Cosa vuol dire? Per esempio la prima novità che abbiamo raccolto come Venezia è l'annuncio che Air Canada Rouge raddoppia la sua capacità su Venezia. Ha due voli su Montreal, nuova destinazione per loro, una frequenza aggiuntiva su Toronto che li porta a quattro. Di conseguenza molto positiva e siamo tornati contenti. Il mercato nordamericano ha trainare questa crescita sugli aeroporti come Venezia o internazionali del nostro paese che sono tre? Beh, vale a dire se vediamo quello che sono i passeggeri dell'aeroporto di Venezia, su 8 milioni e mezzo abbiamo un milione di passeggeri quasi che vola sull'Asia, crescita media del 9-10%. Sul nordamerica abbiamo una crescita media del 7% altri 900 mila passeggeri, sull'Europa l'Europa cresce intorno a un 4%. L'Italia continua ad essere in calo per le note ragioni. Di conseguenza molto positivo che grazie al traino dell'intercontinentale noi continuiamo la nostra crescita. Come vedete voi a Venezia il traffico chartering outgoing, quindi il traffico delle vacanze. Noi storicamente siamo non un aeroporto di charter, storicamente i nostri vicini di Verona sono sempre stati più forti dal punto di vista charter. E' ovvio che il charter in particolar modo di corto medio raggio viene impattato dall'offerta più ampia dei vettori low cost di questi giorni. L'ultima battuta sulla nuova l'Italia, c'è chi ha scritto questo piano è migliore di quello precedente che ormai era del 2008, voi come la vedete? Beh, la nuova l'Italia noi gli auguriamo tutta la fortuna al mondo, devono partire e prima di partire devono cercare di capire cosa vogliono fare. Per cui noi siamo fiduciosi, l'Italia mantiene un market share del 20%, per cui non siamo molto dipendenti sull'Alitalia. E' il secondo vettore dopo EasyJet, per cui ripeto ci auguriamo che continuino la loro crescita e che vedano in Venezia un bacino di interesse.